Tragedia a Foggia. Un operaio è morto sotto le macerie di un solaio crollato per cause in corso di accertamento in via Ferrante a Porti, una traversa della centrale via Matteotti. L'uomo stava effettuando lavori di ristrutturazione dello stabile all'interno dell'edificio. Il suo corpo è stato estratto dai vigili del fuoco, sommerso dai cumuli di detriti. La vittima si chiamava Rosario Buonpensiero e aveva 54 anni. Inizialmente si avevano notizie di un probabile secondo operaio che poteva essere rimasto vittima del crollo, ma si è salvato miracolosamente mentre il muro si è sgretolato sotto i suoi occhi e il tetto è venuto giù. L'amministrazione comunale e l'intera città di Foggia si stringono attorno alla famiglia di Rosario Buonpensiero. La sua morte ci addolora profondamente e ci lascia senza parole. Proprio alla vigilia del decimo anniversario del crollo di via delle Frasche e pochi giorni dopo, il quindicesimo anniversario del crollo di via Legiotto, la nostra comunità vive una nuova tragedia. Un altro nostro concittadino perde la vita sotto le macerie di un palazzo. E il commento del sindaco di Foggia, Franco Landella, alla tragedia di via Ferranti a Porti, dove ieri mattina la parete di una palazzina in ristrutturazione è crollata, uccidendo un altro operaio a lavoro.